Dopo la presentazione fatta in commissione consigliare da parte del governatore Marco Marsiglio di una sua proposta volta a modificare l'attuale legge elettorale regionale, si sono accesi gli animi nell'opposizione. L'obiettivo del presidente della regione è quello di arrivare alle elezioni del 2024 in cui sarà ricandidato con un collegio unico regionale, liste con più nomi, tripla preferenza di genere, sistema proporzionale ed elezione anche del candidato presidente che arriva terzo. Una proposta su cui il consigliere di opposizione Sandro Mariani si è detto disponibile a sedersi intorno a un tavolo per modificare in meglio quello che è l'impianto dell'attuale legge elettorale, ma non con le linee guida dettate dal presidente Marsiglio. Sicuramente la legge elettorale va migliorata e deve essere migliorata, ma non può essere migliorata solo dove fa comodo al presidente della regione per cercare di blindare la sua riconferma. Poi abbiamo visto più volte che chi prova a cambiare le leggi elettorali per cercare di essere eletto poi alla fine le subisce, esempio ultimo ciò che è successo a livello nazionale nelle ultimissime elezioni. Abbiamo chiesto al presidente della regione di introdurre il doppio turno, il voto disgiunto, di modo che i cittadini abruzzesi possano scegliere il loro candidato presidente, quindi sottoporsi direttamente al giudizio degli abruzzesi. Come lui ha chiesto che i consiglieri regionali devono necessariamente misurarsi su un collegio regionale. Così abbiamo chiesto, d'altro canto, al presidente di fare lo stesso nella candidatura a candidato presidente. Per Mariani la strada migliore da percorrere sarebbe quella del voto disgiunto e doppio turno. Questa legge elettorale, così come pensata, penalizza i centri periferici, la periferia favorisce i grandi centri. Mi sembra che l'appello è unanime da parte di tutte le forze politiche e da tutti i rappresentanti territoriali. Quindi di conseguenza il presidente Marsiglia ha semplicemente fatto una legge che in alcuni punti, che sono poi quelli che gli interessano, quelli su cui non è disposto a trattare, tenta semplicemente di blindare la sua persona. Perché ha paura di sottoporsi al giudizio degli abruzzesi, perché sa benissimo che ha fatto male, ha amministrato male, sta amministrando male. E sotto gli occhi di tutti il disastro della sanità che in Abruzzo c'è. Le cose sono peggiorate, rischiamo di tornare sotto commissariamento, lo vedremo nei prossimi giorni.